È stato inaugurato il nuovo reparto di cardiologia, emodinamica e unità di terapia intensiva cardiologica dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, il primo centro ab in Italia per le cure dell'infarto e tra i primi in Europa. Latina e la sua provincia tornano al centro della programmazione sanitaria regionale. L'inaugurazione del nuovo reparto di cardiologia e della sala angiografica sono un tassello fondamentale ed un'eccellenza riconosciuta a livello nazionale per la cura e il trattamento delle patologie tempodipendenti. Il nuovo atto aziendale, nel segno di un rafforzamento dell'ospedale di Latina, quale DEA di secondo livello, vedrà finalmente la realizzazione della cardiochirurgia, indispensabile per un bacino di 600.000 abitanti, ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Il modello Santa Maria Goretti per la cardiologia sta raggiungendo risultati eccellenti nel corso degli anni, grazie al consolidamento e al perfezionamento della rete, in un tempo sempre più breve, dalla telerefertazione dell'elettrocardiogramma eseguito in ambulanza al referto dei professionisti sanitari. Questa modalità, ha spiegato commissario straordinario dell'ASDA di Latina, Sabrina Cenciarelli, consente una diagnosi precoce dell'infarto miocardico con il trasferimento immediato del paziente nella sala di emodinamica, saltando così anche il pronto soccorso.